Il mondo si prepara alla giornata della canonizzazione in Vaticano dei due papi, Papa Giovanni XXIII, il Papa Buono, e Papa Giovanni Paolo II. La città eterna aspetta 3 milioni di pellegrini, che sarà impossibile ospidare a San Pietro, per cui il Comune ha predisposto 14 maxischermi in varie zone della città. Già da questa sera è prevista una veglia di preghiera per i fedeli bergamaschi a San Giovanni giunti a Roma per la canonizzazione del loro conterraneo passato alla storia come il Papa Buono e per il celebre discorso della Luna, pronunciato l'11 ottobre 1962 in apertura del Concilio. Si attendono soprattutto giovani in questo weekend, quelli che nel 2000 hanno affollato la spianata di Tor Vergata in occasione della giornata mondiale della gioventù, presieduta da un Papa già malato e sofferente nel corpo, ma non certo nello spirito. Papa Francesco l'ha annunciato, Santo Giovanni Paolo II sarà il Santo protettore dei giovani. Due figure importanti, quelli che verranno canonizzate domani, forse i primi papi che hanno goduto della potenza e diffusione dei media come radio e tv. Gli archivi e la narrazione di questi giorni è ricca di immagini del loro pontificato, dei 129 viaggi apostolici in giro per il mondo di Giovanni Paolo II. Inoltre, per la prima volta nella storia della Chiesa, parteciperanno alla cerimonia successore di uno dei papi canonizzati, il Papa Emerito Ratzinger e Bergoglio. Sarà una cerimonia che verrà ricordata anche per la presenza di due papi viventi. Alla celebrazione di domenica, quando Papa Francesco pronuncerà la formula di canonizzazione, sono attesi 24 capi di Stato, tra presbiteri e sovrani, 11 tra i primi ministri, sarà presente anche Matteo Renzi e famiglie e governatori. Per l'Italia saranno presenti, oltre a Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, e al Premier Matteo Renzi, circa 200 parlamentari. Sono attesi a Piazza San Pietro anche i reali di Spagna. Intanto questa sera, nella Cappella del Palazzo Vescovile di Sulmona, i giovani dell'Azione Cattolica organizzano una piccola veglia di preghiera per entrare in comunione con le celebrazioni che si tengono a Roma. L'appuntamento alle ore 21. Tutti sono invitati a partecipare.